Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca I militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Guardia di Finanza di Mantova hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 2 milioni e mezzo in base di un provvedimento emesso dal GIP di Mantova nei confronti di un professionista nel campo dell'ingegneria edile Dopo due verifiche fiscali è stata contestata una consistente evasione fiscale realizzata con fatture per operazioni inesistenti e omettendo di versare l'IVA Il meccanismo si basava su numerose società cartiere per gli anni di imposta dal 2012 al 2016 Il sequestro finalizzato alla confisca ha interessato 7 immobili tra Mantova e Verona, ingenti disponibilità finanziarie e 3 auto sportive di valore Il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Guardia di Finanza di Mantova all'esito di specifiche attività di polizia, giudiziaria, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Mantova a contrasto dell'evasione delle frode fiscali Nei giorni scorsi ha eseguito un decreto di sequestro preventivo anche nella forma per equivalente per un importo complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova su richiesta della Procura nei confronti di un professionista operante nel campo dell'ingegneria edile Le attività investigative basate ovviamente sul riscontro di rapporti economici con clienti e fornitori hanno portato a ritenere sussistente la fitizietà delle operazioni intercorse con numerose società cartiere per gli anni di imposta tra il 2012 e il 2016 L'attività cautelare finalizzata alla confisca ha interessato 7 unità immobiliari dislocate tra Mantova e la città di Verona ingenti disponibilità finanziarie ma anche 3 auto sportive di valore Ma non è soltanto la unica attività che nell'ultimo mese ha caratterizzato l'impegno sinergico di Guardia di Finanza e Procura della Repubblica a contrasto dell'evasione Non più tardi di due settimane fa altro analogo provvedimento è stato eseguito a carico di un soggetto operante in provincia di Mantova che secondo l'accusa aveva compensato propri debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti con l'indebita compensazione In questo caso sono state sequestrate ingenti disponibilità finanziarie per una cifra di oltre 600 mila euro In definitiva grazie ai due provvedimenti di sequestro eseguiti nelle ultime settimane ovviamente sono stati sottratti alla disponibilità degli indagati beni per un valore complessivo di 3,1 milioni di euro Per tutta la serata di ieri e fino a notte fonda la Polizia di Padova ha svolto un intensificato controllo capillare di prevenzione nei quartieri cittadini maggiormente caratterizzati dalla diffusione delle sostanze stupefacenti e dei reati predatori finalizzato altresì a contrastare la diffusione del Covid-19 Nell'ambito dell'attività sono state tratte in arresto tre persone di cui un 35enne tunisino controllato in via Gozzi per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di circa due etti di Ashish e ancora del pregiudicato 26enne Igberasa di origini nigeriani ad opera della squadra mobile per detenzione di 5 involucri contenenti 2,27 grammi di eroina, 2 involucri con all'interno 1,15 grammi di cocaina e infine uno straniero Ben Mabluk Anis, tunisino in quanto sottoposto a controllo in via Guidoreni e accompagnato in questura per le compiute procedure di identificazioni è risultato rientrato illegalmente nel territorio nazionale da settembre scorso nel complesso sono stati sequestrati 200 grammi di sostanze stupefacenti di cui 186 di Ashish, 2,5 grammi di eroina e 1,15 grammi di cocaina in particolare nel corso dei servizi di osservazione svolti in zona castagnara dove già nei giorni precedenti era stato notato un via vai di cittadini africani sospettati di spaccio e notati fare la spolla verso il centro città ovvero nelle zone della stazione e della cavalcavia Borgo Magno si è proceduto ad una perquisizione e quindi all'interno di una camera da letto occupata dall'arrestato Igberasa al momento dell'identificazione con il braccio in figlio di pochi mesi e precisamente celati tra le doghe di legno e il materassino del bimbo dove appunto dormiva sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti eroina e cocaina la notte scorsa poco prima delle due i vigili del fuoco sono intervenuti a Via Lago di Alleghe a Schio in provincia di Vicenza per l'incendio all'interno di una fonderia a causa della fuoriuscita di materiale fuso da un alto forno nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita e alle 8.45 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pigna a Rosain vicino a Bassano del Grappa per l'incendio divampato all'interno di una villetta disposta su due livelli nessuna persona è rimasta ferita i pompieri arrivati da Bassano del Grappa e da Vicenza con due autopompe, un'autobotta e sette operatori hanno cicoscritto e quindi spento l'incendio che ha interessato un laboratorio di hobbistica nel seminterrato della operazione le cause dell'incendio probabilmente innescati da una stufa pallet sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco contro la violenza sulle donne la cura sei anche tu in 58 farmacie del comune di Padova dal 20 novembre ci saranno 40.000 sacchetti per i farmaci o altri acquisti con il messaggio contro la violenza sulle donne la cura sei anche tu se hai bisogno d'aiuto chiama il centro antiviolenza 800 81 46 81 un progetto di sensibilizzazione del centro veneto progetti donna in collaborazione con Fedefarma e l'ordine dei farmacisti che con questo slogan ricordano che ogni uomo e ogni donna possono fare la differenza nella lotta alla violenza alle donne l'obiettivo è far emergere il fenomeno della violenza e far sapere che c'è un servizio che può aiutare ogni donna ad uscire dalla violenza secondo l'indagine istat in italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha vissuto almeno una volta nella vita un episodio di violenza fisica o sessuale i dati veneti sono tra i più alti fra quelli regionali le donne prese in calico nel 2018 sono state 3.256 un report che arriva dalla regione Veneto sulla rilevazione delle strutture regionali 2019 nel 2019 a Padova e provincia si sono rivolti al centro veneto progetti donna 1.082 donne mentre nei primi dieci mesi del 2020 sono state 755 le donne di cui 356 con figli e minori per un totale di 578 bambini uno spot video ideato da Sorop Timist Club Padova è stato realizzato dalle attrici Federica Santinello e Laura Cavinato che andrà a promuovere l'iniziativa e girerà sui canali social per sensibilizzare e far riflettere sul tema appunto della violenza contro le donne ogni donna è un'opera d'arte non sfregiarla rispettala è questa l'iniziativa del comune di Garzo che lancia la campagna contro la violenza sulle donne con una installazione artistica ed uno spot per sensibilizzare sul tema queste sono le opere d'arte famose che esaltano la bellezza dell'essere donna in contemporanea però esce anche oggi uno spot con una coppia di giovani del posto quali Noemi Ruzza e Leonardo Lazzaretti che mettono in scena episodi di violenza domestica sullo sfondo di una gioconda sfregiata ricordiamo inoltre che parla proprio il sindaco Ornella Leonardi che dice è un invito ad uscire dal tunnel e farsi aiutare parlarne innanzitutto con un'amica, con un genitore, una persona di fiducia o un professionista e denunciare soprattutto i sopprusi parliamo ancora di governo il governo ha pubblicato un bando che mette al centro la qualità dell'abitare nelle varie città un comune può presentare al massimo tre progetti richiedendo fino ad un massimo di 15 milioni di intervento a progetto il comune di Padova ha deciso di presentarli tutti e tre insistendo su tre aree differenti l'arcella in un abito compreso tra gli stabili del Configliacchi e dell'ex area di Piazza Azzurri compresa la palazzina ex Coni il portello con un progetto che parta dall'ex macello e si spinga fino all'area della fiera la zona di crocifisso a sud attorno alle residenze di via Telesio il bando è indirizzato a progetti che migliorino la qualità della residenza sociale quindi dell'edilizia residenziale pubblica ma anche residenze per studenti o fasce deboli come anziani e lavoratori ancora la cronaca sorpreso a girare in auto per la periferia di Treviso in piena notte ha cercato di sfuggire alla polizia locale ne è nato un vero e proprio inseguimento ma non il rispetto del coprifuoco anti-covid non è stata l'unica violazione commessa appunto dal giovane in fuga vediamo il servizio da Veneto 1 circolava senza un valido motivo dopo il coprifuoco in più era al volante sotto l'effetto dell'alcol e ha forzato il posto di controllo della polizia locale dando vita ad una roccambolesca fuga per finire aveva con sé una piccola quantità di stupefacente ha sommato una sfilza di infrazioni un giovane sorpreso alla guida della sua mini minor intorno all'una della scorsa notte nel quartiere Monigo a Treviso alla vista della pattuglia della municipale il conducente dell'auto ha accelerato senza fermarsi all'alt cercando di far perdere le proprie tracce peraltro ha fatto poca strada le condizioni psicofisiche e la scarsa conoscenza della zona gli hanno fatto imboccare una via senza uscita per cui l'inseguimento è terminato dopo poco più di un chilometro come spiega il comandante della polizia locale trevigiana Andrea Gallo agli agenti è apparso chiaro lo stato alterato del 21enne residente in un comune limitrofo l'alcol test ha confermato il tasso alcolemico del fuggitivo infatti superava abbondantemente un grammo e mezzo per litro di sangue così insieme alla denuncia per guida in stato di ebrezza è scattato anche il sequestro del mezzo non solo gli sono state contestate alcune violazioni al codice della strada dovute a manovre pericolose e il mancato rispetto dell'ordine di fermarsi ed è stato segnalato alla prefettura in quanto trovato in possesso di qualche grammo di hashish a completare questo record negativo di sanzioni anche quella relativa alle misure d'urgenza anti-covid conclude il comandante visto che a quell'ora il giovane non ha potuto giustificare lo spostamento da casa vietato dopo le 22 oggi anno particolare si festeggia infatti il 152esimo anno della fondazione dei vigili urbani di Padova partito con un organico di 21 unità tra i 24 e i 30 anni celibri al momento dell'arrollamento con permesso di coniugarsi della giunta armati con sciabola e pistola oggi il corpo conta 256 divise di cui 48 ufficiali e 206 agenti più 40 amministrativi che hanno fatto smart working ben due concorsi effettuati nel 2020 più 23 unità 12 agenti per il resto ufficiali altra notizia concomitante appunto con i festeggiamenti quella del cane Lucky che compie un anno di lavoro adesso arrivano altri due cani dalla settimana successiva non la prossima ma quella dopo arriveranno appunto altri due agenti cane ma non ci si ferma qui entro Pasqua 2021 arriverà una quarta unità cinofila in servizio vediamo diciamo da un'analisi proprio meramente statistica noi osserviamo una flessione in diminuzione di tutta una serie di attività chiamiamole di tipo ordinario quantificabile in una percentuale del 20-30% in meno rispetto all'anno precedente dovuto al fatto che il nostro personale si è dovuto dedicare in via prioritaria ai controlli rispetto a delle misure anti-covid sempre sulla scorta delle disposizioni del Ministero dell'Interno tramite le locali prefetture quindi la nostra attività prioritaria nel corso di quest'anno che si è dedicato in forma prevalente sono attività che discendono proprio da questi provvedimenti che disponevano la tipologia di controllo le località dove effettuare il controllo che poteva andare dal controllo stradale al controllo sulle condotte di coloro che esercitano il commercio piuttosto che lo spostamento a piedi sul territorio l'utilizzo dei dispositivi e così via questo tipo di attività è risultato prevalente ha comportato conseguentemente una diminuzione di altre attività che rientrano nelle nostre competenze ordinarie tuttavia alcuni dati vanno in controtendenza questo è dovuto al fatto che faccio un esempio una determinata tipologia di richieste di intervento alla nostra sala operativa o determinate segnalazioni che arrivano si sono fatte più come posso dire più pressanti probabilmente perché la tensione emotiva e il disagio vissuto anche dalla cittadinanza si esprime anche qualche volta si manifesta anche con qualche forma di intolleranza in più rispetto magari a fenomeni di disturbo che normalmente sarebbero stati tollerati da qui qualche chiamata in più e qualche segnalazione in più per il rumore piuttosto che per determinate modalità di sosta vietata e segnalazioni che poi qualche volta sono anche prive di fondamento ma che manifestano e esprimono probabilmente uno stato d'animo che interessa una parte della cittadinanza un aumento sul numero dei trattamenti sanitari obbligatori anche questo esprime probabilmente come dire che il momento viene vissuto con più difficoltà dalle persone magari potenzialmente anche più vulnerabili è chiaro io non sono un medico però sono pensieri che un po' si fanno in automatismo rispetto a dati che noi siamo abituati a analizzare anno per anno oggi pomeriggio il sindaco di Padova Sergio Giordani ha deciso di introdurre con una ordinanza alcune limitazioni al fumo in un'area pubblica legata alla fase pandemica e a tutela della salute pubblica quindi dopo Cittadella e dopo Este anche Padova un sopralluogo in città svolto per tutta la giornata di sabato e domenica scorsi il sindaco Giordani ha potuto constatare come l'abbassarsi la mascherina per fumare un comportamento che si riscontra magari continuando a passeggiare in luoghi che vedono la presenza di altre persone che si incrociano e quindi possono essere messe a rischio di contagio stesso discorso vale anche per i luoghi dove si formano in via fisiologica maggiori concentrazioni di persone come aree prospicenti a istituti scolastici o fermate del trasporto pubblico locale sicuramente si faranno per un paio di giorni informazione e prevenzione perché non è giusto fare agguati gratuiti ma a regime tutti si dovranno rispettare con rigore le regole chiede ovviamente il sindaco di Padova come sempre la collaborazione dei padovani senza polemiche e con il rispetto degli altri e dei normali principi di buonsenso dice il sindaco usciremo da questa terribile epidemia al termine del progetto più manager per piccole e medie imprese successo promosso da Confindustria Venezia in collaborazione con Federmanager e supportato da quattro manager l'iniziativa ha permesso a 21 imprese di usufruire in forma gratuita di competenze professionali di sette dirigenti per sviluppare specifici settori quali l'innovazione la digitalizzazione e ancora la sostenibilità ha inoltre favorito le politiche attive del lavoro e incoraggiato l'avvio di processi di aggregazione l'imprenditore Padovano Ruggero Targhetta è stato eletto vicepresidente vicario del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale articolazione operativa di Confindustria servizi innovativi e tecnologici che ieri ha rinnovato i vertici eleggendo Edoardo Gisolfi presidente per il biennio 2020-2022 La magia non si spegne questo è il claim che accompagnerà le festività della Città del Santo che si apriranno il prossimo 21 novembre con l'accensione delle luci di Natale sui palazzi comunali fino a gennaio 2021 un sottotitolo che sta a rivendicare il bisogno di non rinunciare al calore del Natale anche se quest'anno vissuto in maniera inedita ricordiamo che quello che si sta avvicinando sarà quindi un Natale sicuramente diverso dagli altri probabilmente più intimo essenziale sentito senza i grandi eventi che avevano caratterizzato le precedenti festività patavine e le consuete attività e attrazioni come quella dei mercatini del villaggio di Babbo Natale alla pista di ghiaccio che possono creare assembramento nel centro storico e non solo si tratterà quindi di un Natale che valorizzerà il suo spirito originario e che punterà molto sulla atmosfera e sui sentimenti veri delle persone vediamo domani 21 novembre si accendono le luminarie sui palazzi del comune tutto il prato della valle e iniziano ad accendersi i vari coni che sono distribuiti assieme anche ad altri alberelli in giro per i quartieri perché vogliamo che le luci abbraccino tutta la città sarà però un crescendo la settimana prossima si accenderà anche l'albero di Natale davanti a Palazzo Moroni domani partiranno le prime proiezioni luminose anche quelle legate al videomapping ma il videomapping vero e proprio si vedrà invece dal prossimo weekend a quello del 28 quindi un crescendo di luci veramente molto importante perché poi sarà accompagnato anche dall'accensione delle luminarie dei singoli commercianti nelle singole vie con i quali stiamo collaborando quindi un crescendo di luci che ci accompagnerà in un Natale che è un Natale diverso e più difficile evidentemente rispetto a quello degli anni scorsi non ci saranno grandi eventi non ci saranno i mercatini ma ci sarà ecco l'insieme di luci che vogliono essere un simbolo di coesione e di speranza e un abbraccio alle attività economiche che stanno soffrendo e che dobbiamo invece sostenere comprando i regali di Natale bene è tutto per questa nostra edizione del giornale grazie per averci seguito vi diamo appuntamento come sempre sui nostri social ma anche potete venirci a trovare anche sul nostro sito www.cafettv24.it 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 www.cafettv24.it